Prendersi il Poloni Hainz, poi Hall va dall'altra parte rispetto al blocco di Miro, Tish! Adesso lo sta facendo molto bene, Milano cerca, come diceva adesso, e Trenessina in precedenza. Che la mette per terra contro Wiltshire, ribaltamento, Hall attacca O'Connell, tripla in step back di Devon Hall. Passaggio poi la mette per terra per attaccare Golden, Melli ribaltamento, Hall questa volta attacca il recupero di Andriana! Lo rincorre a medio della valle che non vuole lasciargli uno sguardo verso il ferro, Hall lo batte, tiro in corsa! Shields, Voipan, sull'auto con due secondi per andare al tiro fuori, Hall che deve prendersi, la conclusione! Ribazzo di Fottmann può correre l'Olimpia, Hall guarda l'area che è vuota, vede Strautin se lo mangia! A difendere su Devon Hall, esce per portare il blocco Kamagate, Hall attacca l'area, ancora un altro! Non c'è assolutamente entrato invece, Melli blocca su Forrai, Hall prova a girare l'angolo, attacca il ferro, mano destra, Devon Hall! Lo stesso per l'Olimpia a Milano, Devon Hall prova a attaccare a lina di fondo, lo ferma lo stesso Cinciarini, Hall poi appoggiando al tabellone! Serie di crossover, poi si butta dentro ma sbaglia il tiro, rimazza l'attacco per l'Olimpia però Devon Hall, sistema i piedi! Cini prova! Manipier anticipa la palla diretta a Prentisab, poi lancia lungo per Schiltz! Eeeh! Ostatnio był London Lions, widzieliśmy go także w meczach przeciwko Śląskowi Wrocław. 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 non Paiola, la Virtus non voleva accettare quel cambio e l'ha vinta la Virtus perché... Mirovic serve All, poi blocca per il numero 22, All attacca Forai uno contro uno, palleggio arresto e tiro di Devonol. Rayer, Bortolani prova a girare l'angolo, chiude il palleggio, serve Devonol che la mette per terra contro Taker, lo bate, va il ferro, Devonol... Dice che quando sei sotto di più punti, di quanti minuti mancano, sei nei guai. All, palleggio arresto e tiro. Si calma a provare, intanto la zona, la Cadori la penetra molto bene e crea un ottimo tiro per Devonol. Addirittura, all, va fino in fondo. Miporicci da numero 3, vediamo come funziona il quintetto con il 17 da 3 per Milano, funziona bene. Grazie. 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 Grazie.